Quando ti dico tu sei la mia persona, forse non capisci, non sto parlando di anime gemelle, no, parlo di qualcuno che ti sconvolge, non ti sceglie e non lo scegli, arriva. Di qualcuno che entra nella tua vita e di cui poi non puoi più fare a meno. Parlo di un amore che cresce senza che tu te ne accorga, un amore che quasi combatti, che non vuoi provare e gli metti i bastoni tra le ruote. Lo allontani, lo maltratti e alla fine lo ritrovi ancora lì, davanti a te, intatto, senza un graffio. Lì, che ti guarda e aspetta che tu capisca. Parlo di qualcuno con cui il tempo non esiste, che ti lascia senza respiro e che te lo toglie quando si allontana da te. Diventa un'esperienza fisica, una dipendenza, per certi versi una malattia, veleno e antitodo allo stesso tempo. Parlo di qualcuno che è i tuoi pensieri, i tuoi gesti, i tuoi respiri. Parlo di qualcuno che è te, di qualcuno che se lo guardi in silenzio ci vedi quello che sei tu e che a volte ti fa paura perché è come guardarsi ad uno specchio, perché ti fa riflettere, perché capisci che devi cambiare, devi essere migliore di come sei, perché è la tua persona e se salvi lei, salvi te stessa. Quando ti dico tu sei la mia persona Di Nympha Rebel Voce Mauro Mazza